Salve ragazzi e bentornati a Dark Side. Le ultime volte abbiamo visto le leggende riguardanti i fantasmi in città, come per esempio abbiamo visto il Castel dell'Ovo, il Palazzo Donnana di Napoli, il Castello di Ferrara, eccetera. Adesso, stando alle vostre ricostruzioni su Instagram e ai sondaggi che abbiamo fatto uscire più volte nei nostri canali, parleremo dei fantasmi di Ancona. La città di Ancona, situata sulla costa adriatica, è ricca di storie e cultura, ma anche di misteri e leggende che la rendono un luogo affascinante. In questo video esploreremo alcune delle storie più famose dei fantasmi di Ancona, che hanno affascinato e spaventato i suoi abitanti per decenni. Cominciamo con la leggenda del fantasma del Castello di Ancona, un'antica fortezza situata sulla collina che sovrasta la città. Si racconta che un soldato della Guarnigione, ucciso durante una ribellione nel XVII secolo, vanga ancora per le sale del suddetto castello, facendo udire così i suoi lamenti. Alcuni visitatori sostengono ed aver visto la figura spettare attraverso le stanze vuote, mentre altri, invece, affermano di aver udito rumori strani e sussurri durante la notte. Passiamo adesso alla chiesa di Santa Chiara della Piazza, uno dei luoghi più antichi e suggestivi di Ancona. Qui si dice che il fantasma di una monaca vaga ancora tra le navate, vestita con il suo abito nero ed il velo bianco. Si dice che fosse stata imbrogliata e uccisa perché colpevole di aver avuto una relazione con un uomo proibito, che la sua anima tormentata sia ancora in cerca di pace. Infine parliamo del fantasma della Madonna del Poggio, una statua della Vergine Maria posta sulla collina che sovrasta la città. Si dice che la sua statua abbia salvato la città dal saccheggio dei turchi durante la battaglia di Lepanto nel 1571 e che sia stata vista muoversi di notte come se pregasse per la protezione della propria città. Ebbene, amici cari, queste sono solamente due tra le centinaia di storie che si raccontano ad Ancona. Ancora oggi tali storie affascinano e spaventano, come ti ho detto in precedenza, i suoi abitanti. Se non avete mai visto Ancona, progettate di andarci? Fatecelo sapere! Noi come sempre vi auguriamo un buon proseguimento, ribecca anche i video precedenti e ci vediamo più tardi.